L'azienda agricola Il Prato di Castiglion Fibocchi non ci sta all'immagine di allevamento lager emersa in seguito al maxi sequestro di circa un migliaio di capi di bestiame, trovini, caprini e bovini al quale si sono aggiunti sigilli ad un laboratorio di lavorazione del latte e il conseguente sequestro di circa 200 forme di formaggio. Il legale dell'azienda ha infatti già presentato ricorso al Tribunale del Riesame contro l'ordinanza di sequestro firmata dal GIP Giampiero Borraccia su richiesta del PM Angela Masiello. Siamo rimasti molto sorpresi da questa iniziativa presa dalla Procura di Repubblica perché c'è una stridente contraddizione tra quella che pare essere la realtà e quanto è deducibile dall'ordinanza di sequestro. Per ora è stata avanzata la richiesta di riesame e non appena saranno posti a disposizione della difesa i documenti su cui si è fondato il provvedimento di sequestro e decideremo cosa fare. Per ora l'azienda ovviamente si sta muovendo sempre nella medesima direzione che è quella di salvaguardare gli animali e la loro salute. Ecco, tra le varie ipotesi c'è anche quella di una richiesta di un dissequestro. Sicuramente sì, questo è ciò che noi miriamo anche perché il sequestro allo Stato sembrerebbe più che altro impedire il libero accesso anche per le cure agli animali stessi. Secondo l'accusa i capi sarebbero stati allevati in cattivo stato di conservazione, malnutriti con mangiatoie che procuravano lesioni e in stato di inadeguatezza igienico-sanitaria. Le scoriazioni sono delle sbucciature sul naso di questi animali quando accedono alle mangiatoie. Per aversi questo tipo di reato le lesioni devono essere gravi e questo sicuramente non lo sono. Infine 92 caprini sarebbero morti in pochi giorni per malattia alla coxiella. Nell'ambito dei periodici controlli sulla salute degli animali è stato riscontrato un aumento degli aborti inspiegabile allo Stato. Benché la ASL di competenza non indichi quale genere di esami debbano essere fatti, spontaneamente l'azienda ha chiesto che venissero analizzati i feti anche per verificare se vi fosse o meno la coxiella. Così è stato e ci troviamo paradossalmente in una ipotesi in cui, benché questa azienda si preoccupi dei suoi animali in una maniera così attenta, risulta essere indagata proprio del tratamento.